Ben tornati a WL Fastbreak Tra poco la squadra sarà in ritiro Puoi spiegarci qual è il tuo lavoro di questi giorni per quanto riguarda questo aspetto? Allora, l'organizzazione del ritiro è in capo a me per cui io mi sto interfacciando con quelle che sono le strutture che si ospiteranno sia a Lamoli, Borgo Pace e a Carpegna dall'albergo alla struttura sportiva che ci ospiterà e quelle che sono le esigenze che il gruppo avrà per potersi allenare al meglio